Signori e signori, è il momento di Morena che interpreta Denerys dalla casa Targaryen, nata dalla tempesta prima del suo nome regina degli Andali, dei Roinar e dei primi uomini signora dei sette regni, protrettrice del regno, principessa di roccia del drago Calisi del grande mare d'erba, la non bruciata madre dei draghi regina di Meirin e distruttrice di Catene Vi offrirò una scelta, o inchinarvi e insieme trasformare Westeros in un luogo migliore o rifiutare e morire Un passo avanti Non ti inchinerai? Io ho già una regina Io Denerys della casa Targaryen, prima del mio nome distruttrice di Catene e madre dei draghi Vi condanno a morte Vi condanno a morte E fatevi un applauso per Morena con Denerys Targaryen Democrats Arcari Si Daman Grazie.